Buongiorno, sono Antonio Castello, il sindaco del Comune di Pianezza, oggi andiamo a definire uno degli incontri che stiamo portando avanti per definire un accordo di programma con i comuni appartenenti al nostro distretto socio-sanitario. In accordo con il CISA e con i comuni che vi appartengono, dove il Comune di Pianezza e il Comune Capofila, stiamo cercando di definire quello che può essere un accordo di programma, deve essere un accordo di programma per l'inclusione scolastica dei ragazzi che hanno una disabilità o delle esigenze educative speciali. Un problema molto importante che ha delle ripercussioni in ambito scolastico e in ambito familiare e che con l'ausilio dell'ASL, del Torino 3, con l'ausilio del CISA, con l'ausilio delle scuole, oggi sono presenti anche tutte le scuole del territorio che rappresentano il nostro territorio, stiamo definendo proprio questo accordo, un accordo basilare e estremamente importante per permettere l'inclusione di questi ragazzi. Grazie. Buongiorno, sono Perna, Presidente del CISA e sono veramente orgoglioso di questa giornata che dovrebbe essere uno dei momenti conclusivi per giungere finalmente all'accordo tra tutte le componenti che si occupano della disabilità per la 104 e per i ragazzi con difficoltà di apprendimento. Spero proprio che dopo questa giornata si riesca a fare una sintesi dei lavori per giungere al documento conclusivo e finalmente poter fare in modo che le famiglie, l'associazione e i ragazzi possano avere delle direttive e dei riferimenti precisi a cui fare il riferimento per i loro diritti.